Matteo Renzi nel discorso per il decennale del PD, non più è uomo solo al comando, ma più ascolto e collegialità, è sembrato temere solitudine e isolamento. Anche l'unico degli elefanti storici del PD intervenuto, Walter Veltroni, ha marcato la distanza rivolgendosi alla platea con voi e mai noi. Il dato di fatto è che il leader del PD da un lato, ha perso il braccio di ferro con il cuorenale, che aveva iniziato dopo la sconfitta del 4 dicembre per elezioni anticipate senza nuova legge elettorale e senza necessità di alleati, e dall'altro lo aspettano due scadenze elettorali, il referendum in Lombardia e Veneto del 22 ottobre e il voto in Sicilia del 5 novembre, dove il PD si trova in due pasticciacci brutti. L'approvazione della nuova legge elettorale ricorrendo al voto di fiducia con l'evidente sovrintendenza del cuorenale, ha ormai segnato la trasformazione dell'esecutivo di Gentiloni da governo fotocopia di Renzi in governo del presidente di Mattarella, ed è appunto su questa strada, che è avviata anche la prossima legislatura con il cosiddetto Rosatellum. Infatti gli ultimi tentativi di dar vita a una coalizione vincente a sinistra si sono infranti nel caso Pisapia. L'ex sindaco di Milano, ha visto vanificato il ruolo di possibile cerniera nel momento in cui, dopo aver intimato passi indietro a D'Alema e a Renzi, è stato poi valutato dai sondaggi non oltre l'1%. La reazione di Renzi, una coalizione imperniata sul PD con a sinistra una lista promossa da Emiliano di amministratori locali e movimenti civici e sulla destra la Bonino con una piattaforma europeista alla Macron, può rivelarsi efficace, ma sembra pur sempre lontana dall'autosufficienza.